I commercianti devono venire fuori dalle loro botteghe se vogliono uscire indenni da questa crisi. Il sindaco di Sapri sollecita un impegno comune per il rilancio dell'economia locale. È necessario che i commercianti escano dalla loro bottega. Non può più pensare, non si può più pensare che rimanendo dietro il loro bancone e attendendo che qualcuno risolva i problemi, che qualcuno prende i clienti e li porti nei loro negozi questo meccanismo è impercorribile. Non riescono a trovare momenti di unitarietà nella discussione, non sono disponibili ad aprire alcun tavolo di confronto di prospettiva, di modifica dello stato stagnante, e lo dobbiamo dire, del commercio a Sapri. A tutti l'impegno a voler sperimentare qualcosa bisogna solo provare a fare sistema per capire se e come qualcosa si può provare a fare per provare a dare un segnale. Critico anche il giovane stilista Alessandro Liva, che da quattro anni esercita la sua attività nella cittadina saprese, se il commercio non riesce a risalire la china, dice, è anche colpa dei commercianti che non hanno adeguato le proprie attività alle nuove esigenze dei consumatori. Basta guardare le vetrine, non vengono addobbate con gusto e quello che viene fuori è un look ormai passato di moda, che certamente non invoglia l'acquisto. Per lo stilista cilentano questo particolare momento di crisi deve essere sfruttato per far maturare una nuova cultura, quella che punta a migliorare la qualità e l'immagine commerciale. Grazie. 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 Grazie.